Vedremo magari più avanti le lacrime di Agodirin, eccolo qua, bravo a controllare e poi di piatto, o meglio di collo ad alzare, con la punta ad alzare il pallone che scavalca il portiere e arriva in fondo al sacco, eccolo qua ancora, fa bene la nostra regia a riproporcelo, il gol e che gol? Questo è una sorta di scatto di quello che può essere il campionato del Foggia, attenzione perché nel finale ancora il Benevento che naturalmente non ci sta e continua a mettere i palloni in avanti, qui è la camera, il cross, non ci arriva nessuno, controlla con il petto dorsi che appoggia all'indietro a cinestra, la sofferenza naturalmente dei tifosi del Foggia, qui una manata rifilata in pieno viso alla camera e qui un po' tutti abbiamo avuto paura quando abbiamo visto la camera a terra. E con tra l'altro inquadrato uno dei soccoritori che diceva non respira. E qui l'esultanza e la festa del Foggia per un successo davvero incredibile, la festa meritata per l'impresona della squadra rossotica.